Un'altra domanda prima di andare via? Ah, dottor Frankenstein. Frankenstein. Sì? Non è forse esatto allora che Darwin conservò alcuni pezzi di vermicelli in una scatoletta e per chissà quale causa straordinaria essi cominciarono effettivamente a muoversi con movimenti volontari? Sta parlando di vermi o di spaghetti? Ma di vermi, professore? Sì, mi sembra di aver letto qualcosa in proposito quando ero studente. Ma tenga presente che un verme, con pochissime eccezioni, non è un essere umano. Ma non è stato quello...